Ciao a tutti, bentornati sul canale della Stileful Band. Io sono Augusto e questo è Wikivlog. Come avete potuto vedere, la settimana è iniziata con una grigliata. È stato il compleanno di Bobo che ha deciso di festeggiare con pochi amici e tanti tanti arrosticini. Non mi dilungherò a parlare di questa giornata, ci siamo divertiti tanto ed è stato molto bello vedere il regalo che Marina, la compagna di Bobo, ha deciso di farli. Auguri Bobo! Canti? Canti? Ragazzi, questo video è dal proprio top assoluto. Contrabbasso? Ma davvero? Cerca la nota e non la trova. Potrei commuovermi, attenzione. È blu questa ragazza. Lunedì invece ci siamo trovati con Jack di Urban Nights, con il quale abbiamo in mente un progetto che vi porteremo nelle prossime settimane su questo canale. È stato molto bello vederlo dopo così tanti mesi, fare una bella chiacchierata con lui. Per chi non lo sapesse, Jack è uno speaker per Radio Cernusco Stereo, in cui tiene questo programma Urban Nights e lo abbiamo conosciuto proprio pochi mesi fa a gennaio quando ci ha intervistato. Se lui è d'accordo, magari nelle prossime settimane potremmo ripubblicare su questo canale la puntata intera di Urban Nights dedicata alla stile full band. Fai una cosa che è molto fresca ed è molto carina secondo me, quindi l'unica cosa che devi fare è esattamente quello che stai facendo adesso. Ma i dentoni, tira fuori quei cazzo di dentoni, oh Dio, ridi, ridi. Non hai mai visto Franky Stai Jr.? Franky Stai Jr.? Spengo, spengo. Potrebbe essere peggio, potrebbe piovere. Franky Stai Jr., tu l'hai visto? No, no, no. Oh Dio. Ma passiamo alla musica. Mercoledì ci siamo trovati e abbiamo continuato a lavorare sull'idea dell'inedito di settimana scorsa. Essendo una fase ancora un po' preliminare abbiamo più che altro lavorato sui nostri singoli strumenti, in particolare io sulla chitarra, e abbiamo cercato di definire un po' le dinamiche e la struttura del pezzo. Settimana prossima invece probabilmente lavoreremo con Josué e cercheremo di definire una parte di batteria e penseremo ad arrangiare anche i fiati. No, sto cercando di pensare a... Settimana? 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 ah ce l'ho a prendere il pino 3, 4, 6, 7, 8 3, 4, 6, 7, 8 Però se vi può interessare lasciate un commento e magari nei prossimi video vi faremo vedere più di questi incontri in cui scriviamo gli inediti Comunque per questa settimana è tutto, vi ringrazio di essere arrivati fino a qui Vi ricordo che settimana scorsa è uscita la nostra cover di Enno Sunshine nella quale abbiamo un po' sperimentato utilizzando questo home studio Quindi se ancora non l'avete vista ve la lascio qui sopra, andatela ad ascoltare Beh che dire, lasciate un commento, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Ci vediamo settimana prossima con un nuovo wiki vlog Ciao